Non vince solo l'allenatore della squadra, vince tutta la società, ma mi fa piacere, mi fa piacere che vuol dire che qualcosa di buono sto facendo insieme ai miei collaboratori e ai ragazzi, soprattutto che poi vanno in campo e quindi è motivo di orgoglio, di motivazione. Io le parole del Presidente all'inizio me le ricordo molto bene, poi lui ha avuto questo problema, adesso sono contento che è uscito, spero vivamente, glielo auguro di cuore che risolva definitivamente i suoi problemi per poi sederci e parlare di un eventuale progetto.